E' uscita da una parte e sembra rientrare dall'altra, 300 persone coordinate dai Ministeri di Economia e Sviluppa per Conte e per Draghi 500 tecnici assunti con procedure specifiche che faranno capo al Tesoro. Draghi, e Calenda? La faranno? Sono contento. Allora, primo punto, fare di tutta l'herba on fashion è una cosa che non ha nessun senso. Draghi non ha avuto niente a che fare con la gestione degli acquisti dei vaccini dell'Unione Europea. Secondo luogo, ha fatto invece una cosa di grande discontinuità. Cioè ha bloccato le esportazioni, cosa che sta diventando una linea europea, dando un segnale fortissimo e immediato. La storia di McKinsey è risibile, perché tutta la pubblica amministrazione italiana usa i consulenti quando usa i consulenti. Quando tu devi fare un progetto straordinario per un breve periodo di tempo, che non può comportare l'assunzione di personale stabile. E che ti dà una mano, nel caso specifico di McKinsey, a assemblare i dati che le pubbliche amministrazioni e farne un documento. Come ha fatto la Francia. E andatevelo a leggere il recovery plan di settembre della Francia, perché magari fosse. Detto questo, cosa molto diversa è dire, io costruisco un filone parallelo al governo, fatto di gente che entra, come io ho sempre spiegato, in conflitto inevitabilmente con i ministri. Perché se nei recovery plan tu stabilisci che devi costruire gli asili nido, ma il percorso di costruzione degli asili nido è fatto non dal ministero, dall'istruzione o dai comuni, o chiunque ne abbia la competenza, ma viene stabilito da una filiera, che era quella di Conte, parallela, queste due cose vanno in conflitto. Oggi ci sono migliaia di consulenti come McKinsey, che lavorano in tutte le amministrazioni, quando devono fare un lavoro straordinario e temporaneo. Esponente delle Sardine, buonasera.